Mr. Bencivenni, affronti il Montevarchi da ex con quali sensazioni? Che è una sensazione che non interferirà poi sulla partita perché in campo vanno ragazzi, sono loro che dovranno essere protagonisti di una bellissima giornata di sport. Ecco, secondo te quali sono i punti di forza del Montevarchi e quale ricetta per provare a batterli? I punti di forza sono tantissimi, a partire dalla solità, la solità che viene dal mondo del professionismo, quindi sopra organizzata dall'ambiente. L'ambiente chiaramente troveremo un clima particolare, carico. E poi la squadra, che benché sia una squadra nuova, di nuova costruzione, sta pian piano crescendo, una squadra fisica, una squadra che copre bene gli spazi, che si difende con un blocco unico, che quando attacca ha giocatori importanti, in mezzo ciotoli di qualità, un portiere uno dei migliori della categoria, e questo lo dice tutto sul valore effettivo della squadra.